Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI, dove per lavori tra Ginestra Fiorentina e La Strassigna si segnalano 3 km di coda in direzione Firenze. Il traffico invece per il momento scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana. Si ricorda che a Firenze da ieri è tornato l'obbligo di spostare l'auto in occasione della pulizia delle strade. Infine per i treni, a causa di un guasto temporaneo agli impianti di circolazione tra Empoli e Ponte Aelsa, i treni regionali su questa linea potranno subire ritardi fino a 90 minuti, cancellazioni e variazioni informazioni sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!